A chi lo incontrava per la prima volta dava l'impressione di essere uscito da un film degli anni 50, uno di quei parrocelli antica che niente clergyman o abiti civili indossava rigorosamente la tonaca nera. Ma chi lo conosceva davvero sapeva che a dispetto dei suoi 73 anni, dietro quell'aspetto che ricordava i romanzi di Guareschi, c'era uno dei sacerdoti più moderni e battaglieri della diocesi. Ricordare Donaldo Contraffatto oggi che un malore lo ha portato via agli affetti della sua comunità è difficile, ma la storia di questo piccolo grande sacerdote di periferia è molto più che un romanzo. Donaldo è ispirato questa mattina intorno alle 8 dopo essere stato ricoverato d'urgenza nel reparto di terapia intensiva del Vittorio Emanuele di Gela, dove era arrivato nella serata di ieri a causa di uno scompenso cardiaco. Le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi, i medici hanno deciso di sedarlo e intubarlo nella speranza che la sua tempra d'acciaio facesse il resto, ma stavolta purtroppo non è andata così. Donaldo ha raggiunto la casa del padre stamattina mentre due comunità, quella di Butera e quella di Gela, lo piangono con mosse. Di lui non si possono che ricordare le tante battaglie sociali a favore degli ultimi, dei dimenticati e soprattutto i suoi jacuzzi nei confronti della politica spesso troppo assente di fronte ai tanti problemi della sua amata cittadina. Amava lo spettacolo ed era amico di tante star della tv da Fiorello a Baudo, di cui proprio ieri aveva pubblicato una foto insieme sul suo profilo Facebook per celebrare il suo compleanno. E poi ancora le ospitate ad insieme con il suo grande amico salvo la rosa o l'incursione a striscia la notizia per reclamare anche sulla ribalta nazionale il rispetto per la sua comunità e una Butera più civile e più a misura d'uomo. Qua abbiamo avuto l'opportunità di mettere in sicurezza questa zona da parte di un imprenditore locale a cui è stato detto non lo puoi fare, non ti puoi prendere la responsabilità e quindi se dovesse continuare il cedimento di questa arteria non salta solo la nostra gita ma pericolo ben altro. Della sua grande fede e del suo impegno totale nella chiesa sembra quasi superfluo parlare, Vicario Foraneo della chiesa di Butera, parroco di Maria Auxiliatrice, è stato anche insegnante al liceo scientifico Elio Vittorini di Gela dove ha coltivato ed aiutato a crescere tantissime generazioni di ragazzi. Era sempre un passo avanti, nonostante l'età e l'aspetto di un Don Camillo d'altri tempi, era stato tra i primi a intuire la potenzialità del web e dei social network. Quando ancora neanche si immaginavano le messe in streaming, così come abbiamo visto in questi tempi di quarantena, Donaldo aveva già organizzato e messo su il suo canale web video personale, su cui trasmetteva le funzioni religiose seguite da tantissimi buteresi sparsi nel mondo. E poi ancora le tante denunce sui social, sempre armato del suo telefonino, un vero cronista da strada, sempre pronto a denunciare le ingiustizie. Ieri in ospedale lo aveva raggiunto subito il vescovo della diocesi, Monsignor Rosario Gisana, assieme al vicario foraneo di Gela, Dollino di Dio. Insieme hanno pregato a lungo nella speranza che Donaldo superasse questo momento difficile e tornasse a combattere le sue battaglie sociali. Purtroppo non è andata così. Dio lo ha chiamato a sé lasciando nello sconforto tutti quelli che hanno avuto la fortuna di incrociarlo nel loro cammino. Va via un uomo di fede, una guida è un esempio ma ci lascia un percorso tracciato, fatto di legalità, giustizia e amore per i più deboli. Donaldo va via ma restano le sue battaglie che ognuno di noi adesso ha il dovere di portare avanti. Un abbraccio e grazie per la vostra pazienza. Un buon giorno a tutti.